Bene, ciao Sinsauri, bentornati sul nostro canale. E' uscito il thriller di Assetto Corsa Evo. Parliamone dopo la sigla. Vi aspetto. Eccoci qua. Allora, Assetto Corsa Evo è uscito il thriller 3-4 giorni fa, adesso non mi ricordo. Ci dicono che uscirà a gennaio 2025. Parliamone e vediamo cosa ne pensiamo noi Sinsauri. Ebbene sì, a me del video thriller di Assetto Corsa Evo non mi frega esattamente un cazzo, quindi ne abbiamo parlato. E dietro i volanti guidiamo e divertiamoci. Ciao Sinsauri.